In occasione dell'ottenimento della bandiera blu, l'ente comunale organizza anche quest'anno un contest fotografico dal titolo La mia immagine in blu. L'iniziativa invita a raccontare attraverso un'immagine le bellezze del mare di Castellabate, la sua qualità e la sua suggestione, un'occasione per dar spazio a tutti gli amanti della fotografia e un'opportunità per valorizzare il territorio. La partecipazione al concorso è completamente gratuita ed è aperta a tutti. Ogni partecipante potrà inviare una sola foto all'indirizzo mail segreteria-sindaco-comune.castellabate.sa.it che sia attinente al tema scelto e alle caratteristiche richieste. A decretare il vincitore saranno gli utenti di Facebook attraverso un like alla foto pubblicata sulla pagina comune di Castellabate e la fotografia vincitrice farà da sfondo alla locandina che celebra come ogni anno l'ambito riconoscimento conferito dalla FE. Sarà possibile inviare le foto esclusivamente all'indirizzo indicato, entro in un oltre la data del 25 maggio 2021. Il contest sarà aperto alla pubblicazione degli scatti. Alla pubblicazione verranno indicati il numero dei giorni utili per votare. Al termine verranno conteggiati i mi piace ottenuti. Le immagini pervenute saranno tutte inserite in un album dedicato. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi in formato JPEG e con inquadratura verticale. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer e gli autori delle foto dovranno legare l'immagine del mare ad un elemento paesaggistico e architettonico distintivo del territorio.